Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani, io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo Michele. In questo video ti parlerò di quelli che sono i tre segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori della guarigione che se applicati possono aiutarti ad accedere alle frequenze di luce più elevate in assoluto per facilitare così la guarigione su te stesso e sui tuoi cari che può portare un riequilibrio energetico in tutti i livelli fisico, mentale, emozionale e spirituale. Ti prego di rimanere in attenzione perché questi argomenti sono molto molto interessanti. Negli ultimi sette anni circa ho lavorato con più di 800 persone nei miei percorsi di coaching e nei miei seminari e ho scoperto che la maggior parte degli operatori di guarigione non utilizzano la protezione, la purificazione, il radicamento e la liberazione. Quindi sono degli errori tra virgolette che si commettono prima di facilitare la guarigione sulle altre persone. Questo cosa comporta? Comporta il fatto che si prendono, può capitare di prendersi i pesi energetici delle altre persone, quindi dell'energia a bassa frequenza che possono far star male l'operatore di guarigione. Quindi il cliente sta meglio o comunque la persona trattata sta meglio dopo la sessione di riequilibrio energetico, mentre l'operatore di guarigione tende a prendere i pesi. Come risolvere questi errori? Come risolvere questi problemi? Ebbene parliamo dei tre segreti. Dopo tanti anni di preghiera, di meditazione e di lavoro a stretto contatto con l'arcangelo Michele, ho scoperto l'importanza della protezione psichica che porta veramente guarigione, porta purificazione, porta liberazione. Per questo ho scritto tre preghiere molto potenti che aiutano a risolvere il problema di assorbire i pesi energetici delle altre persone. Queste preghiere sono la preghiera di protezione psichica giornaliera, la preghiera di protezione della casa e degli ambienti, il processo di liberazione e la preghiera di purificazione dei chakra che aiuta non solo a purificare l'energia ma anche a radicarla fino al centro della madre terra. È come fare una doccia prima di uscire a cena con un amico, è importante essere profumati, quindi è importante essere puliti energeticamente prima di interagire con le altre persone, va bene? Questa è una garanzia non solo per l'operatore di guarigione che si scherma, si protegge, ma accede comunque alle frequenze di luce più elevate, può quindi facilitare la cosiddetta guarigione o riequilibrio energetico sulle altre persone, ma anche per la persona che riceve il trattamento. La persona è al sicuro, la persona può permettersi di aprirsi e ricevere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze. Ora che conosci i segreti della protezione, della purificazione e della liberazione del radicamento, puoi scegliere se applicare questi insegnamenti da solo, contando su te stesso o te stessa, oppure puoi decidere di partecipare ai miei seminari. Terrò due seminari, un seminario di guarigione che si terrà il sabato e la domenica, quindi un seminario di due giorni in presenza, oppure un seminario di quattro giorni dove insegnerò tutto sulla guarigione e anche sulla connessione al sé superiore. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta. Nel seminario di due giorni del sabato e della domenica imparerai ad accedere al campo delle nuove frequenze di luce, quindi imparerai tutto sulla guarigione energetica con questa nuova banda di frequenze che comprende tutte le energie di guarigione fino ad oggi conosciute, ma si espande in un nuovo livello chiamato luce ed informazione. Quindi imparerai la guarigione in presenza, imparerai la guarigione a distanza, imparerai la guarigione di liberazione, la guarigione con la foto, la guarigione con lo sguardo, la guarigione fatta a più persone contemporaneamente, quindi tutti gli aspetti della guarigione in soli due giorni dove imparerai quelli che sono gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele sulla protezione, la liberazione, la purificazione, ma sarà un lavoro interattivo, si lavorerà tantissimo, si praticherà tantissimo per almeno il 90% del seminario, quindi un'esperienza straordinaria, due giorni meravigliosi insieme, in presenza, dal vivo. Questo seminario si terrà a San Donato milanese in provincia di Milano. Qui sotto ci sono tutti i dettagli, ma andiamo avanti, potresti essere come me e vorrei avere una formazione completa e quindi poter accedere a quello che è il seminario di quattro giorni, quindi due giorni di guarigione come ti ho appena elencato, quindi imparerai tutto sulla guarigione con le nuove frequenze di luce. Altri due giorni dove praticamente imparerai a facilitare la guarigione al sesso, scusa, la connessione al sesso superiore sulle altre persone, una vera e propria riattivazione di quelli che sono tutti i meridiani, le linee assiatonali del corpo, i chakra, proprio per riconnetterti a quello che è il tuo sé superiore, nella frequenza vibratoria del 333 che rappresenta la completezza, che rappresenta la connessione alla propria missione di vita. Quindi puoi scegliere queste due meravigliose opportunità. Però volevo parlarti anche di quelli che sono i bonus che io ho messo in questa offerta straordinaria, in questo percorso di due giorni o di quattro giorni e in più se rimarrai fino alla fine del video tu avrai la possibilità di accedere a un super regalo, un regalo meraviglioso solo per te se deciderai di candidarti entro la fine di questo video. Quindi rimani in ascolto, ti prenderò solo pochi minuti del tuo tempo. Abbiamo parlato del seminario di due giorni, in questo seminario abbiamo tre bonus speciali, tre regali meravigliosi che troverai solo nei seminari di connessioni angeliche. Il bonus numero uno, imparerai tutto sulla protezione psichica, quindi imparerai a risolvere quelli che sono i tre errori che ho elencato prima, quindi imparerai a capire cos'è la protezione, chi è l'arcangelo Michele, come proteggerti, come schermarti e così via. Abbiamo anche il bonus numero due che riguarda tutti gli insegnamenti dell'arcangelo Michele sulla liberazione, purificazione e radicamento della tua energia, quindi imparerai a comprendere come purificarti attraverso la purificazione dell'arcangelo Michele a partire dal dodicesimo chakra, l'energia del sé superiore dell'arcangelo Michele scende sempre più giù fino ad arrivare al settimo chakra della corona, il sesto chakra del terzo occhio, il quinto chakra della gola, il quarto chakra del cuore. Andrà a purificare tutti i tuoi chakra fino a radicare la tua energia, fino al centro della madre terra, incontrando il cuore della madre terra in un interscambio di luce e di amore, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità. Vorrei informarti che durante, prima del seminario e anche durante il seminario, ti verranno dati in dotazione tutto il materiale didattico che ti servirà proprio per facilitare la purificazione e il radicamento della tua energia. Parliamo di liberazione, la liberazione è determinante per essere dei canali puliti e qua arriva il terzo bonus, imparare a diventare canali puliti. La differenza tra ego superiore, ego inferiore, l'importanza di trascendere l'ego, di uscire dalle aspettative di un particolare risultato, di uscire dall'ego inferiore che ti fa sentire male se le persone non raggiungono l'obiettivo che vogliono. Qua le persone ricevono il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze, il massimo bene di tutte le persone coinvolte, ma non siamo noi a stabilirlo, sono le frequenze, un accordo tra il ricevente, la sua anima e l'interscambio di luce e di amore con queste frequenze. Quindi noi diventiamo degli osservatori, noi osserviamo, noi dobbiamo imparare a diventare canali puliti neutri, fuori dall'ego, esempio di amore in terra. Tutti questi insegnamenti verranno dati attraverso questi bonus che sono completamente gratuiti e fanno parte del seminario dei due giorni. Se invece vuoi partecipare, ricevere, ripeto, una formazione completa di ben quattro giorni, i bonus sono straordinari, abbiamo un bonus tra questi tre bonus, c'è un bonus speciale che non ho mai offerto prima, il primo bonus riceverai tutto il pacchetto completo, ossia gli insegnamenti sulla protezione, sulla purificazione, sulla liberazione, sul radicamento, tutto in uno, in un solo bonus, nel primo bonus riceverai quindi tutti questi insegnamenti più tutto il materiale didattico che ti servirà prima del seminario, durante il seminario e dopo il seminario. Secondo bonus riceverai la tua connessione al sé superiore personale che consiste in due sessioni da 30 minuti ciascuna dove riceverai la riattivazione dei meridiani, la riattivazione delle linee asiatonali, la riattivazione di tutti i tuoi chakra e la tua connessione al sé superiore. Quindi questo è un bonus meraviglioso, è veramente la prima volta che io dono questo regalo per te, quindi perché per poter accedere al seminario di 4 giorni è fondamentale ricevere la connessione al sé superiore, quindi questa è compresa nel pacchetto. Ancora abbiamo il terzo bonus che rappresenta gli insegnamenti sull'ego, quindi gli insegnamenti per diventare un canale pulito, per uscire dall'ego superiore e inferiore. Quindi veramente questi sono dei regali meravigliosi. Ma non finisce qui, se ti candiderai prima della fine di questo video c'è un regalo straordinario per te, è un regalo speciale. Sia che tu deciderai di partecipare al seminario di 2 giorni o al seminario di 4 giorni, riceverai 3 sessioni di guarigione a distanza, di riequilibrio energetico a distanza da parte mia o da parte di un membro del mio team. Cosa aspetti? Candidati adesso per il seminario di 2 giorni o per il seminario di 4 giorni, perché riceverai in entrambi i casi questo bonus speciale e vorrei informarti che ci sono solo 25 posti disponibili, la classe a numero chiuso. Quindi non perdere quest'occasione straordinaria di connetterti con le nuove frequenze di luce, ascolta la tua anima. Se il tuo cuore ti sta guidando in questa direzione, allora seguilo e candidati cliccando il pulsante qui sotto e se ci sarai ci vediamo dall'altra parte. Un salutone, a presto, ciao!